Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con il Fatto. Anche oggi presentiamo un libro, ieri abbiamo parlato di economia, oggi parliamo di storia. Lo facciamo grazie all'invito nei nostri studi accolto da Massimo Carugno, che salutiamo. Buonasera Massimo Carugno. Buonasera direttore e buonasera a tutti i telespettatori e le telespettatrici. Noi la conosciamo come esponente politico, come avvocato, come insomma persona impegnata su vari fronti, ma soprattutto adesso è uno scrittore che ha anche un'affermazione piuttosto rilevante, grazie a una serie di libri, di romanzi, soprattutto l'ultimo che ci porta a noi abruzzesi anche alla riapertura di pagine della nostra storia, che poi sono fuse, anzi sono soprattutto una storia dell'Italia e anche addirittura internazionale dei primi del Novecento attraverso una figura che il 99% di abruzzesi non conosce e questo è già meritorio da parte di Massimo Carugno che ha dato la giusta collocazione storica, ma anche romanzesca, a Virgilia D'Andrea, protagonista del Novecento, come è il titolo del suo ultimo romanzo, perché si tratta di un romanzo pubblicato da Pepe Reel che sta avendo grande successo. Allora Carugno, chi era Virgilia D'Andrea? Virgilia D'Andrea nasce a Summona nel 1888, rimane orfana di padre e madre a tenerissima età, viene ospitata in un collegio di suore e come arriva la maggior età abbandona il collegio, diplomata, maestra, va a insegnare nei paesini del circondario di Summona, dell'Appennino e nel Fucino nel 1915 con il terribile terremoto che fece 35 mila vittime e comincia ad apprezzare la condizione degli umili abbandonati dalle istituzioni. Giocoforza si fa coinvolgere nella competizione politica, entra nel movimento socialista trainata da Mario Trozzi che fu deputato nel 1919 e diviene subito una leader regionale del movimento socialista femminile abruzzese. Poi nel 1917 conosce Armando Borghi che era il numero due del movimento anarchico, il numero uno era Enrico Malatesta e per sentimento, per amore ma anche probabilmente per inclinazione politica, abbraccia quel tipo di idea e quel tipo di impostazione. Si staglia subito come la vera leader del movimento anarchico, la vera segretaria dell'USI che era l'Unione Sindacale Italiana, fonda il giornale L'Umanità Nova e nel frattempo trova anche il tempo per cominciare a scrivere delle opere, scrive Tormento che è una raccolta di poesie, scrive diverse pubblicazioni. Negli archivi delle prefetture dell'epoca è considerata il vero capo del movimento anarchico. Sono a Bologna, poi sono a Milano, a Milano subiscono nel 1922 l'assalto dei fascisti che bruciano la sede dell'USI e del giornale e con la marcia su Roma lei e Borghi riparano a Berlino. La Repubblica di Weimar, parlamentata liberale, questo Stato senza regole, la culla di tutta la cultura europea, lei entra nel cenacolo di Bertolt Brecht, Willy Wilder, un intellettuale, comincia a dialogare con gli intellettuali. Ma anche l'esperienza berlinese, a vita breve, perché la svalutazione del marco, la miseria, la fame, li portano alle 25 a riparare a Parigi. A Parigi viene coinvolto in un altro fenomeno che è quello del furuscitismo, tutti i leader politici antifascisti erano riparati a Parigi e lei entra in quel cenacolo di Turati, Nenni, Modigliani, Bozzi, fonda un giornale intitolato La Veglia che era destinato a tenere in contatto, in collegamento tutta la comunità italiana parigina, ma soprattutto si rende promotrice di guidare il movimento culturale che cercò di salvare Sacco e Bazzetti. Ebbe degli epistolari con Sacco, incontrò la sorella e il famosissimo, un suo comizio davanti al Padere Giustizio di Parigi, nel L'Idezité, dal quale poi partì un corteo immenso per tutta Parigi. A questo movimento tra altre cose aderì molta della crema culturale dell'epoca, fra cui anche Einstein. Nel 1928 ripara a New York, Di qui anche il disegno scelto per la copertina del libro. Il disegno della copertina è una siligrafia di New York. Ripara a New York e diventa rapidamente il punto di riferimento di tutto il movimento anarchico e operaio delle maestranze, perché gli italiani americani in America erano o contadini o minatori o operai e comincia a fare delle conferenze fra la East e la West Coast, nutritissima, alle quali partecipavano migliaia di persone e nelle quali lei non solo cercava di far capire, di diffondere i principi dei diritti dei lavoratori, i principi sindacali, ma erano anche lezioni culturali per far riscoprire a quegli italo-americani le radici della loro italianità. Quindi parlava di poeti italiani, parlava della storia italiana, parlava delle grandi imprese che avevano fatto gli italiani. Muora a New York nel 1933 a 45 anni. Sembra che lei ha raccontato quella che sembra una vita vissuta da ciascuno di noi nella nostra abituale durata, ma tutto ciò in 45 anni questa donna straordinaria ha regalato a una memoria che lei ha avuto anche la forza e l'intraprendenza e anche lo studio, ore e ore penso dedicate al reperimento dei documenti per realizzare una bibliografia, per arrivare poi al romanzo. Ecco, perché un romanzo su Virgilia D'Andrea? Già la biografia sarebbe una storia straordinaria, ma l'idea del romanzo è quella che riesce a dare anche un'attualità attraverso un'altra figura femminile. Allora, il romanzo per un motivo molto semplice, perché i cenni biografici sulla vita di Virgilia D'Andrea sono molto radi, sono frammentati. Io ho letto le opere di Edoardo D'Andrea, di Francesca Piccio, di Brunella Campea, ho letto i cenni biografici di Armando Borghi, ma comunque ci sono molte lacune. E allora io ho pensato di inserirmi in queste lacune con la fantasia del romanziere. E poi perché mi sono divertito a creare all'interno del romanzo un gioco di suspense attraverso due storie parallele, fra Virgilia D'Andrea che racconta se stessa negli ultimi giorni della sua vita una misteriosa e giovane infermiera di cui non si conosce l'identità e la si conoscerà soltanto nelle ultime righe dell'ultima pagina ed è un personaggio molto importante. E parallelamente c'è la storia di una donna americana che trent'anni dopo, a metà degli anni Sessanta, vola da New York a Roma per un viaggio mistico, un viaggio denso di spiritualità, denso di significati. Il significato di questi tre personaggi e il legame di questi tre personaggi si comprenderà soltanto nelle ultime righe. Assolutamente, non spoileriamo nulla. Ma perché a suo avviso Virgilia D'Andrea è stata così trascurata anche dalla storiografia ufficiale, dai tanti studi sugli abruzzesi illustri? Ecco, lei è una pagina che sembra, e lei ha sentito il dovere di scrivere, ma sembra dimenticata, trascurata. È dimenticata. Virgilia D'Andrea in Italia ha fatto una vita alla clandestina per lo più, perché insieme a Borghi, Borghi era o in carcere o al confino. E quindi poi erano braccati dalla polizia, erano controllati, quindi ha fatto una vita alla clandestina, anche se molto attiva sul piano politico, perché era la leader ed era ovunque, ma era nascosta dalla vita pubblica. È conosciuta all'estero perché poi, quando è andata in Francia, invece ha potuto agire liberamente in America ancora di più, tant'è vero che è studiata alla Sorbona, è studiata ad Harvard, è sconosciuta in Italia. Ma il suo essere anarchica è un concetto che possiamo coniugare anche con gli anarchici di oggi, oppure gli anarchici degli anni 20, degli anni 30 erano altra cosa? Gli anarchici di quegli anni erano molto romantici e tra le altre cose nel romanzo sono spiegati i dieci punti di Malatesta che era un programma libertario, non era un programma sovversivo e non era neanche un programma squisitamente anti-autoritario, era un programma che voleva realizzare la vera libertà dell'individuo. Io forse sbaglio sotto il profilo ideologico, ma se dovessi assimilare ai tempi attuali degli eredi di quel movimento anarchico, vero più i radicali Marco Pannella e lo spirito libertario dei radicali pannelliani, piuttosto che è quello dell'anarchismo destinato soltanto a creare sovversione o a destabilizzare il sistema. Il suo romanzo ha ricevuto recessioni da riviste letterarie prestigiose e in giro in tour, lei per presentarlo in vari contesti. Lei è soddisfatto del feedback che ha ottenuto rispetto al grande sforzo che ha profuso per ridare una vita a questo personaggio? Indubbiamente è un personaggio che interessa, è un personaggio molto affascinante e ovunque vado raccolgo veramente molta attenzione. Sono stato a Torino, sono stato a Varese, sono stato a Castiglioncello, sono stato all'Aquila. Le prossime tappe saranno il Fla che ci sarà nella settimana prossima a Pescara, sono stato a Reggio Emilia la settimana scorsa, sarò a Firenze al Circolo Vius, sarò a Cipitanova Marche, parlo degli impegni più brevi, quelli più ravvicinati, poi c'è Avezzano, c'è Orsonia e poi a seguire a dicembre e gennaio dobbiamo preparare Perugia, Bologna, Ferrara, Brescia. Insomma vado in giro per l'Italia, a cercare di far conoscere un abruzzese e attraverso l'abruzzese l'Abruzzo, a differenza di molti operatori culturali abruzzesi che invece fanno venire la gente da fuori, come se in Abruzzo noi non avessimo delle qualità da mettere in vetrina. Ecco, scrittore per passione, politico per passione, Massimo Carugno, io non posso esimermi da ricordare che lei è stato candidato per la coalizione unitaria del centro-sinistra in Abruzzo nell'ultima scadenza elettorale e anche insomma un ruolo di vertice nel partito socialista. Siamo all'indomani di un risultato elettorale, quello in Liguria che va letto in maniera amara, suppongo, per l'idea di unità che proprio anche lei con la sua candidatura avrebbe voluto rappresentare rispetto a una coalizione che sembra avere la forza ma non l'unità per sfidare il centro-destra, non posso non chiederglielo questa mattina. Ma il risultato è stato sul fil di là, non testa a testa, si è vinto per poche migliaia di voti, io se vuole che le dica la mia valutazione più importante, il dato più significativo è stato quello dell'assenteismo, oltre il 54% di persone non sono andate al voto e il partito più grande d'Italia che cresce elezione dopo elezione, denuncia una disaffezione dalla politica, presumo che denuncia, presumo e sono convinto che denuncia anche una disaffezione dal bipolarismo, io credo che molti di quelli che non vanno a votare sono persone che sono veramente stufe di dover scegliere fra la zuppa e il pan bagnato e in questo paese manca il concetto di pluralismo, si è perso inseguendo il bipolarismo, inseguendo questi fantomatici due poli, inseguendo questo mitone maggioritario, si è perso il senso del pluralismo e invece il pluralismo è il sale della neografia, la neografia non è bipolare, è plurale. Sì però il potenziale elettorale del centro-sinistra non è un po' frustrato e questo lo ha vissuto sulla sua pelle anche Luciano D'Amico e le ultime regionali dalle polemiche interne, anche della totale incompatibilità tra figure che dovrebbero essere unite per sfidare il centro-destra come Conte da una parte e Renzi dall'altra, l'esempio più clamoroso che anche in queste ore è riemerso. La storia elettorale sta dimostrando che il Movimento 5 Stelle è in via di estinzione, da un lato i risultati elettorali regionali, da un lato le liti fra Conte e Grillo sono fortemente indicative di una crisi che mi pare irreversibile. È chiaro che i grillini, i 5 Stelle non hanno nulla di sinistra, non hanno neanche nulla di resta, loro hanno soltanto il concetto, i concetti banali, semplici, quelli per fare presa sulla gente dell'onestate, della legalità, non hanno in mente i programmi. È ovvio che quando si vanno a scontrare poi, si vanno ad accoppiare, a unire a forze politiche, invece hanno in testa dei programmi ben chiari perché il Paese va pure governato con delle riforme, con degli interventi, non si può soltanto parlare di legalità e di giustizia. È chiaro che poi non sono capaci, come si dice, e quindi si creano dei dissidi, dei distensi, veti, inutili. Se avessero accettato l'Italia Viva Rilenzi, probabilmente quel piccolo gap che è mancato tra Orlando e Bucci sarebbe stato colmato, avrebbe vinto Orlando, ma questo però è la responsabilità anche del Partito Democratico che dal 2022, dalle elezioni del 2022, quando io sono stato candidato, già pensava di dover fare sponda con i 5 Stelle accreditandoli una forza e una capacità di propulsione politica che non hanno. Bene, io ringrazio Massimo Caruglio anche per essersi prestato, ma capirà ovviamente, siamo sempre sull'attualità, anche a domande sulla politica, ma il motivo principale della sua, credo molto interessante partecipazione a questa trasmissione risiede nel libro, che io vi ricordo ancora in libreria, Virgilia, protagonista del Novecento per Paper Hill e sicuramente avrete modo anche di conoscere tante altre cose, non soltanto sul personaggio, ma anche su quegli anni incredibili, i primi del secolo scorso e di un clima che è ben tratteggiato nelle pagine di questo romanzo. Grazie ancora, arrivederci, buonasera. Grazie a voi, grazie dell'ospitalità.